Perché sempre di più la nostra società, il nostro mondo di oggi ci porta ad avere delle necessità purtroppo legate ad una tutela per difendere i nostri diritti anche in certe volte i più banali, per le più banali versazioni possono portare anche con un posto di risentimenti di frustrazione eccetera attraverso queste necessità abbiamo calato il servizio di mediazione civile attraverso l'attività della CTSC Palli, che ringrazio personalmente a nome di tutta l'amministrazione comunale e proprio per cercare di questa nostra cerianca, io ritengo una realtà importante, tranquilla dell'abrianza per inserire anche in questo contesto comunque questa possibilità di rimettere i cittadini che hanno dei contenziosi, dei conflitti eccetera in uno stato di informazione ma anche per poter concludere in modo positivo, in modo alternativo, in modo pacifico ecco non mi veniva il termine, delle diatribe che quotidianamente possono venire in conto quindi adesso non mi dilungo, io sono un amministratore comunale del comune di Ceriano ma da sei anni non mi dilungo, io sono un amministratore comunale del comune di Ceriano